12 ore, 4 temi, una passione. Tre frasi per riassumere un'idea che attraversa l'Italia e conquista gli amanti della fotografia in occasione delle celebrazioni per il 150esimo anniversario dell'unità del paese. Anche Bolzano ha partecipato e ha ospitato la maratona fotografica che si è svolta in contemporanea in altre 13 città a livello nazionale. Il regolamento è semplice, ogni tre ore viene comunicato un tema, si hanno a disposizione quattro ore, tutto dura l'intera giornata. Per i migliori come premio una passerella d'eccezione. L'organizzazione porta la firma dell'associazione Arte Cultura Casa della Pesa e Arci Lives. Ci troviamo a questo incontro, maratona fotografica, organizzata inizialmente dall'associazione Arci Mago di Pisa e estesa a tutte le città italiane, a molte città italiane, in occasione dei 150 anni dell'unità d'Italia. La raccolta di immagini fotografiche in diversi angoli della città. La maratona si svolge suddivisa in tre tempi, ogni quattro ore viene comunicato ai partecipanti un tema diverso da sviluppare in diversi punti della città. Alla fine della giornata queste immagini verranno raccolte e verranno selezionate i 150 partecipanti che verranno poi esposti inizialmente a Pisa e poi ovviamente in modo itinerante e coinvolgendo tutte le varie realtà territoriali in diverse città italiane, quindi anche qua a Bolzano, per quello che riguarda appunto la sezione di Bolzano. La passione per la fotografia è stato il vero stimolo di coloro che per 12 ore hanno girato in lungo e in largo alla ricerca dello scatto perfetto. I temi scelti hanno spaziato dal concetto di bellezza all'articolo 1 della Costituzione italiana per passare dagli oggetti dei desideri, finendo con l'invito ad alzare lo sguardo. Il successo sia per quanto riguarda il numero di partecipanti sia per la qualità dei lavori presentati ha convinto gli organizzatori a prendere in considerazione l'idea di mettere in calendario una nuova edizione della Maratona fotografica.